Oggi è la giornata dell'ONU sulla desertificazione. Nonostante le piogge che abbiamo visto, la desertificazione è un problema che ci tocca da vicino. Vediamo perché con Olimpia Mignosi. È una geografia che muta anno dopo anno per colpa di deforestazione e clima fuori controllo, uso spregiudicato delle risorse che la natura ci offre. La desertificazione corre lungo il pianeta e vede le terre aride avanzare fino a latitudini un tempo ritenute al sicuro, Italia inclusa. Territori asciutti che rappresentano ora il 40% del globo. Coinvolgono 2 miliardi e 300 milioni di persone che per siccità e cambiamenti climatici vivono in condizioni difficilissime. Si stima che nel 2050 saranno in 4 miliardi a ritrovarsi in aree sempre più in ospitali, a pagarne le spese più di tutti l'Africa con 26 milioni di profughi ambientali. Entro il 2020, avvertono le Nazioni Unite, 60 milioni di persone avranno lasciato alle spalle l'Africa subsahariana. E oggi l'allarme dell'ONU si rinnova in una giornata per riflettere sugli effetti negativi dello sfruttamento irresponsabile delle risorse ambientali e per ricordare l'urgenza di progetti che aiutino a contrastare l'avanzata di aree desertiche. Un monito, come dicevamo, che non risparmia il nostro paese. In Europa siamo lo Stato che più risente dei cambiamenti del clima. Inverni asciutti, estati siccitose, bacini in sofferenza, a rischio è il 21% dello stivale, il 41% solo al sud. È un pericolo per la conservazione della biodiversità dei nostri prodotti agroalimentari, un motivo in più per mettere in campo tecnologie e sistemi di coltivazione che usino al meglio suolo e acqua.